Pensaci, pensaci tesoro, oh caramalala, come ti ammiro, sei un genio, riuscirei a convincere quello stupido a lasciare delfina senza spendere neanche una monettina, perché non me l'avete detto, io avrei potuto fare l'allevatrice senza problemi, meno male che Flor mi ha avvisata, visto che ho portato la culla alle piacere. È bellissima, ma non preoccupare, Foi Titona, perché c'ha venire docto, dare antibiotico a madre, visto Pampino, stare tutto benissimo. E la mamma dove ora? Sta dormendo nello studio, è distrutta, poverina, molto stanca. È certo, ti sembra poco? Ci sarà un motivo perché voi non fate figli, no? Questo è per me? No, io per ora passo, eh, grazie. Beh, io ho una ricetta speciale per le mammine. Ah sì? Anch'io, però, se lei avere il ricetto per fare latte di madre è forte e fortificato, io avere il ricetto tetesco che è essere molto più buono. Ah sì? A me ne ha data una mia madre molti anni fa e l'ho usata con mio figlio. Ora mio figlio ha visto che... Ah, schifo! Pensi che posso prenderlo? Penso di sì. Mi aiuti? Sì. Oh, a te... Aiutami. Che ti succede? L'amore mi succede? No, Maya, no. Perché no? No. Te lo leggo negli occhi, Mattias, per favore. Prima quando eravamo fuori mi hai detto che non provavi niente. Non ti credo, non è possibile. Per favore, non devi metterla così, la cosa non è così. Io sono un amico di famiglia da tutta la vita, per favore. Ti conosco da quando eri così. Ma questa cosa c'è? E ora sei diventata una donna. Ma bene, allora? C'è un sentimento, un affetto, ma non è quello che credi tu. Un sentimento, un affetto? Potresti essere più esplicito, ti scongiuro. È una relazione come familiare, come, non so, dei cugini. Mattias, per favore, sono... Sono molto confusa. Sei confuso, non ti capisco. Certo che sono confuso, sono molto confuso anch'io. No. Ora basta, Maya. Perché no? Devi capirmi, te lo chiedo per favore. Maya, per l'amore che ho per questa famiglia, e soprattutto per Federico, dimentica questa cosa. E non riprendiamo più il discorso, per favore. Allora è tutto per Federico. Maya, io preferirei che tutto questo restasse solo tra di noi. Sicuro che il suo ricetto è essere molto nutriente? Ma certo, Greta, le farà venire un seno grosso così, pronto per quel bel piccino che si farà una scorpacciata di latte. Ma hai a avere il ricetto molto migliore. Crema di aveno, mandorli, nocioli, noci e uva passi. Oh, ma brava. Questa è davvero una ghiottoneria. Ghiottoneria, sì, ho detto bene. Ma quello che preparo io è perché le abbia molto latte e possa nutrire il bambino. Sto facendo un passato di zucca con broccoli. Molti broccoli. Non, questo è essere criminale, perché io adorare salsiccio con crauta, ma non fare mangiare madre calatare, broccoli dare gas. Oh, certo. Perché le mandorle e le nocciole cosa danno? E sono l'etica? Per favore, voglio continuare a cucinare. Non cambio idea, voglio fare questo che fa bene. Non, non, non. Broccoli fare latte agro. Basta. E la sua ricetta, sa cosa fa? Dei bambinen ghiottonen. Signore, signore, lo chiedo per favore, potete fare un po' di silenzio. Oh, oh, signor Federico, lei era lì. Ora che in questi giorni ho potuto conoscerla, devo dire che comincio a capire Florenzia. Capisco perfettamente tutto quello che sente per lei. E cos'è, che cosa sente Flora per me? Ammirazione, rispetto, tutte queste cose è un prova per lei. E lei come si sente? Perché posso farle un bel tè, un tè, un buon tè al... al tiglio per lei. La ringrazio molto. Se avessi visto quell'idiota, faceva il padre responsabile con un mazzo di fiori. Poi Greta l'ha cacciato a colpi di scopa. Meno male, altrimenti lo uccidevo. Mi sarebbe piaciuto assistere al pasto. Dicono che Flora è stata brava come sempre. Ha dato una lezione a tutti. Non te l'ha detto? È un genio, Flora. Lei è istinto allo stato puro, ti rendi conto. Ma com'è strano la vita, no? Perché uno... Uno viene al mondo così, con una purezza, quando nasce. E poi, man mano che si cresce, diventa più complicato. Perdi quell'innocenza che hai quando sei piccolo. Impazzerò il giorno che avrò un figlio. Ti immagini se sono gemelli come noi due? Sarebbe bello. Nicola... Che c'è, Franco? Che buono. Che ti succede, Nicola? Sei appena nato un bambino qui in casa e non lo so. Sì, ma io divento pazzo, Franco. Sto per morire direttamente. Sto per morire, ecco. Perché? Ehi, che c'è, tante storie per scegliere un'agenzia turistica. Eccola, fatto, l'abbiamo trovata. No, già fatto, questo è risolto, Franco. E allora cosa? Il mio problema è... Siamo Mirta o Clara. Questo è il mio problema, eh? Ti vedo male? Da una parte... Beh, Clara è bellissima, no? Sfrontata, canta bene, balla bene, è simpatica e... Mirta non è bella, perché non è bella. È molto timida e riservata. Però in certi momenti lei diventa molto... Molto provocante, sì, insomma... Sai che... È chiaro, non ti rendi conto. Cosa? Ti piace la parrucchiera, Nico? Sì, tu pensi? Sì, è ovvio. Può darsi. Ma ora mi ha chiamato Clara, viene qui. Che faccio? Allora, vedi che ho ragione. La tua è una questione di fiducia. Quando Franco ti dice una cosa... No, 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 lasciami, lasciami che fai! Non mi dà, non ti strengono! Amore mio, eri qua, ti sto cercando da ore. Vuoi un tè? No, voglio che tu mi dica quale di questi inviti preferisci che faccia stampare. E da quando si invita la gente per le nascite? Per il nostro matrimonio, Federico, manca pochissimo. Ah, certo, certo. Tesara, oggi... Adi...